Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, Divina Volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i cosospiri più ardenti che mi ometta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino e stretto la tua mano materna a guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore Noi ti glori, figlio ci ha insegnato per amore Noi ti glori, figlio ci ha insegnato per amore E non ci ha insegnato per amore Noi ti glori, figlio ci ha insegnato per amore Noi ti glori, figlio ci ha insegnato per amore Da Libro di Cielo, volume 19, 31 agosto 1926 Nostro Signore come mise fuori la creazione Così mise fuori tutti i beni che ci sono nel regno della sua volontà A bene delle creature La volontà umana paralizza la vita della divina nell'anima Stavo secondo il mio solito facendo i miei atti Le mie giratine nel santo volere divino Io stessa vedo che non so fare altro che girare in esso Nella mia cara eredità Datami dal mio dolce Gesù Nella quale c'è tanto da fare e da prendere Che non mi basterà né la mia piccola vita dell'esilio Né tutta l'eternità Per compiere i miei uffici In questa estesissima eredità Che non se ne vedono i confini Né dove comincia, né dove finisce E quanto più si gira in essa Tanto più cose nuove si imparano Ma molte cose si vedono e non si comprendono Ci vuole il dolce Gesù che faccia le sue spiegazioni Altrimenti si ammirano Ma non si sanno dire Onde il mio sempre amabile Gesù Sorprendendomi mentre facevo i miei atti Nella sua adorabile volontà Mi ha detto Figlia mia Guarda quante cose uscimmo col nostro Fiat Nella creazione Per il bene Della natura dell'uomo Tutto ciò che aveva stabilito La nostra volontà di mettere fuori Nulla mancò al compimento di essa Ora come fu stabilito Tutto ciò che dovevamo uscire nella creazione E nulla mancò al nostro appello Così fu stabilito ciò che dovevamo uscire per il bene delle anime Come di fatti riuscimo Ma fu tanto Da sorpassare le mille mille volte di più Tutti i beni che si vedono nella creazione Ma tanto quelli che dovevano servire al bene della natura Quanto quelli che dovevano servire al bene dell'anima Tutto restò depositato nella nostra volontà Perché le cose nostre non le affidiamo a nessuno Conoscendo che solo essa ce le avrebbe conservate Integre e belle Come le uscimmo dal nostro seno divino Molto più che essa sola Tiene la forza conservatrice e moltiplicatrice Che mentre dà Nulla perde E tutte le cose le tiene nel posto Da noi voluto Ora quante cose Ci sono Nella mia volontà Che debbo dare alle creature Ma devono venire nel regno di essa per riceverle E come la natura umana Mai poteva prendere parte ai beni della creazione Se non volesse vivere sotto del cielo Né avere un posto sulla terra Dove le cose da me create le fanno corona Così l'anima se non viene a vivere sotto il cielo del mio volere In mezzo ai beni che la nostra paterna bontà Usci fuori per felicitarla Per abbellirla e per arricchirla Mai potrà prendere parte a questi beni Per lei saranno come stranei E non conosciuti Molto più che ciascun'anima Sarebbe stata un cielo distinto Dove il nostro volere supremo Si sarebbe dilettato di ornare Con sole più fulgido E con stelle più splendide Di quelle che si vedono nella creazione Ma una Più bella dell'altra Vedi la gran differenza Per la natura umana C'è un sole per tutti Invece per le anime C'è un sole per ciascuna C'è un cielo proprio C'è una fontana che sempre sorge C'è un fuoco che mai si smorza C'è un'area divina che si respira C'è un cibo celeste che fa crescere mirabilmente A somiglianza di colui che l'ha creato O quante cose tiene la mia volontà preparate e stabilite Da dare a chi vuole venire a vivere nel suo regno Sotto il suo dolce e liberale regime Non vuole affidare i suoi beni fuori del suo regno Perché sa che se escono fuori dai suoi confini Non saranno né apprezzati né compresi Molto più che essa sola sa conservare e mantenere in vita i beni suoi E solo Chi vive in essa È capace di comprendere il suo linguaggio celeste Di ricevere i suoi doni Di guardare le sue bellezze E di formare una sola vita con la mia volontà Invece chi non vuol vivere nel regno suo Non è capace di comprendere i suoi beni La sua lingua non saprà parlarne Né adattarsi al linguaggio del mio regno Né potrà guardare le sue bellezze Anzi Resterà cieco Per la forte luce che in esso regna Vedi dunque da quanto tempo stanno messi fuori dal nostro seno paterno Tutti i beni che dobbiamo dare ai figli del nostro Fiat Supremo Da che fu creata la creazione Tutto è preparato Né ci ritireremo per la tardanza Aspetteremo ancora Solo che la creatura metterà come sgabello La sua volontà alla nostra Per farla dominare Noi gli apriremo le porte per farla entrare Perché fu la volontà umana Che chiuse la porta alla nostra E si aprì le porte alle miserie Alle debolezze Alle passioni Non fu la memoria L'intelligenza Che si mise contro il suo creatore Sebbene vi concorsero Ma la volontà umana Ebbe il suo atto primo E spezzò tutti i vincoli Tutti i rapporti Con una volontà così santa Molto più che tutto il bene Tutto il male Sta racchiuso in essa Il regime Il dominio È il suo Fallita la volontà nel bene Tutto le fallisce Perde l'ordine Scende dalla sua origine Diventa brutta E siccome fu l'umana volontà Che si mise contro la mia E gli fece Fallire tutti i beni Perciò voglio la sua volontà Ed in ricambio voglio dargli la mia Per restituirli tutti i beni falliti Perciò figlia mia Sia attenta Non dar mai vita Alla tua volontà Se vuoi che la mia regni in te Dopo ciò ha fatto silenzio Restando tutto afflitto Per il gran male Che ha prodotto la volontà umana Nelle creature Fino a contraffare La sua bella immagine Infusa in loro nel crearle E sospirando E sospirando Ha soggiunto Figlia mia La volontà umana Paralizza La vita Nell'anima Perché senza La mia volontà Non circola La vita divina Nell'anima Che più che sangue puro Conserva il moto Il vigore L'uso perfetto Di tutte le facoltà mentali In modo da farla crescere Sana e santa Da poter conoscere In lei La nostra Somiglianza Quante anime Paralizzate Senza Della mia volontà Quale spettacolo Compassionevole Vedere le umane Generazioni Quasi tutte Paralizzate Nell'anima E quindi Sragionevoli Ceche Per vedere il bene Sorde Per ascoltare La verità Mute Per insegnarla Inerti Per le opere Sante Immobili Nel camminare La via del cielo Perché la volontà umana Impedendo la circolazione Della mia volontà Forma la paralisi Generale Nell'anima Delle creature Succede come al corpo Che la maggior parte Delle malattie Specie poi di paralisi Sono prodotte Da mancanza Di circolazione Del sangue Se circola bene Il sangue L'uomo è robusto E forte Non avverte Nessun malessere Ma se incomincia L'irregolarità Della circolazione Del sangue Incominciano Le indisposizioni Le debolezze Le tisi E se la circolazione Si fa tanto irregolare Si resta paralizzati Perché quel sangue Che non circola E con rapidità Non scorre nelle vene Forma i gravi mali Della natura umana Che non farebbero Le creature Se sapessero Che c'è un rimedio Per la regolarità Della circolazione Del sangue Andrebbero Chissà dove Per averlo Per non andare incontro A nessun malanno Eppure C'è il gran rimedio Della mia volontà Per evitare Qualunque Male Dell'anima Per non restare Paralizzata nel bene Per crescere forte Robusta Nella santità E chi lo prende Eppure è un rimedio Che si dà gratis Ne devono girare Per averlo Anzi È sempre pronta A darsi E costituirsi Vita regolare Della creatura Quale dolore Figlia mia Quale Dolore È davvero Rispondente A verità La frase Con cui Una delle frasi Con cui Luisa Ha inaugurato Questo scritto Veramente Stupendo Edificante Importante Dice Tanto più Cose nuove Si imparano Più si gira Nella mia volontà Anche stamattina Ne abbiamo Credo imparate Alcune Adesso lo vedremo Ma molte Si vedono Non si comprendono Fino a quando Gesù non dà Le sue spiegazioni In effetti Le cose Di cui oggi Gesù parla Ci sono sotto Gli occhi Tutti i santi Giorni Nessuno escluso Il problema È che pur Essendoci sotto Gli occhi Non riusciamo A decodificare Alcuni messaggi Fondamentali Allora Il light motive Di questo brano È in questa frase Quante cose Ci sono Nella mia volontà Che debbo dare Alle creature Ma devono Venire nel regno Di essa Per riceverle E questo È un atto Volontario Sappiamo Che la cosa Più importante La prima Che è Come dire Il punto Di arrivo Di un cammino Il punto Di partenza Di un altro È un atto Fondamentale Si può fare Si può fare Anche attraverso Quell'atto Di consagrazione Alla divina volontà Che si trova Nelle preghiere La divina volontà E che credo Abbia composto Sulla base Sulla base Degli iscritti Don Pablo Martín Credo Non ne sono sicuro Ma Credo di sì Perché Cosa dice Questo atto Dice che Al termine Di un cammino Di Iniziale Approccio E conoscenza Del dono Della divina volontà L'anima è giunta Al primo Traguardo Basta Io Scelgo Questa Come mia vita È un po' come Se può fare Un esempio Insomma Un po' Un po' Un po' Così Durante il fidanzamento Se uno fosse cristiano E non fosse pagano Come oggi Insomma No Non si dovrebbe Vivere come marito E moglie Perché il tempo Del fidanzamento È un tempo Finalizzato Alla conoscenza Reciproca E al discernimento Della vocazione Il momento del matrimonio Ebbene Da oggi in poi Siamo marito e moglie Quindi Come ben sanno Le persone che sono sposate Da oggi Comincia una nuova vita E dovremo tutti e due Impegnarci Perché questo sia Un grande matrimonio Un santo matrimonio Ecco Diciamo che è un po' così Solo che sappiamo Che La nostra Controparte Sicuramente Non avrà nulla A farsi rimproverare Sarà fedelissima Nella tempiera Tutte le sue promesse Perché è nostro Signore Il problema Poi bisognerà vedere Quello che facciamo noi Quindi Certamente Non basta Fare quell'atto Perché poi Bisogna viverlo Quotidianamente Però quell'atto È condizione Imprescindibile Gesù dice Io Se Una persona Non mi dà La sua volontà E non mi dice Questa è tua E voglio Vivere nel tuo regno Non voglio Conoscere più La mia volontà umana Voglio Mettermela sotto i piedi Eccetera Siamo tranquilli Che nulla Di tutto quello Che il Signore Ci ha Promesso Parte Poi Gesù dice Quante cose Tiene la mia volontà Preparate Stabilite Da dare A chi vuol venire A vivere nel suo regno Tante Ci crediamo Punto interrogativo Che entrando in questo orizzonte Ci saranno Beni Inimmaginabili Grazie Inaudite Portentose Dice Gesù altrove E prosegue Solo Chi vive in essa È capace Di comprendere Il suo linguaggio celeste Di ricevere i suoi doni Di guardare Le sue bellezze E ancora prosegue Qui c'è il primo contrasto Perché la seconda parte È tutto un contrasto Tra Chi Comincia a vivere Nel vuore divino E chi rimane Nella volontà umana Che assume Punte drammatiche Proprio nell'ultima parte Punte più che drammatiche Veramente Quasi commoventi Direi No? Gesù Come cerca Di farci capire Quanti danni Che facciamo Come ci andiamo A procurare Tutti i mali Possibili E immaginabili Nella misura In cui Rimaniamo Avvinti Rinchiusi Nell'ambito ristretto Della nostra volontà umana Anzitutto dice Mentre solo Chi vive in essa È capace Di comprendere Il suo linguaggio celeste Viceversa Chi non vuole Vivere nel suo regno Non è capace Non è capace Di comprendere I suoi beni Non comprende I beni divini Sembra sentire San Paolo L'uomo carnale Non comprende Le cose dello spirito E se sono follia Per lui Cito testualmente Un brano Delle sue lettere Non è capace Di comprendere I suoi beni La sua lingua Non saprà parlare Né adattarsi Al linguaggio Del mio regno Quando diciamo Che non ci capiamo Niente È perché Purtroppo ancora Siamo Sotto la cappa Sotto le tenebre Sotto Il regime Della nostra volontà umana Purtroppo Né potrà guardare Le sue bellezze La volontà umana Non si fissa Nelle bellezze del cielo Che cosa dice Un altro brano Delle lettere Di San Paolo Molto bello No A Colossesi Questa Non ricordo bene Se siete risorti Con Cristo Cercate le cose Di lassù Pensate alle cose Di lassù Non a quelle Della terra Quindi guardare Le sue bellezze Ma la volontà umana La volontà Che non è risorta Nella divina Bellissimo ricordare L'ultima ora Della passione Che si chiude con Quella citazione Di brani Dove Gesù spiega Che cos'è La risurrezione Sì certamente Ci sarà La risurrezione Della carne Alla fine Ma L'anima Quando è che risorge Veramente In questo mondo E può dire La mia notte È finita Quando muore La sua volontà Come Gesù Era morto Era morto E sepolto E risorge A vivere Nella volontà Divina Questa è la risurrezione Terrena Allora vedremo Come potremo guardare Le sue bellezze Vedremo come certamente Sì La vita terrena Il mondo Certamente ci dobbiamo Vivere Ma non attrarrà più Il nostro cuore Il nostro cuore Sarà altrove Dicevo Durante l'omelia Di una messa Feriale Di ieri sera Mentre questa Meditazione Cade Ancora In questi giorni Nuovi decreti Del governo Per tutte queste cose Della pandemia Eccetera Eccetera No Io E le dicevo Tutta questa Tutto questo zelo Per carità Doveroso Per certi aspetti Verso La salute La vita terrena Ha Un eco Almeno Minimo Nella cura Nell'attenzione Per i beni Ultraterreni Cioè Qual è il bene Supremo Per noi Stare in buona salute Campare Decentemente Qualche altro Anno Sulla terra Oppure Raggiungere La vita eterna Punto interrogativo Cioè Si capisca bene Questo lo ho evidenziato Anche durante l'omelia Non sto certamente Dicendo che Non bisogna Contrastare la pandemia O che Non bisogna fare Tutto quello Che è Realmente necessario Insomma Per custodire La salute Proprio e Quell'altrui No Non sto dicendo Questo Sto però Certamente Evidenziando Un Parametro Ecco Cioè Tutte le persone Che purtroppo Vivendo lontanissime Dei sacramenti Insomma Si può presumere Che molto in grazia Di Dio Non ci stanno Ma stanno così Attente Così Sollecite Così Così pronte Così affannate Ecco Non dire Fammi andare a confessare Il più presto possibile Perché se dovessi morire In questo stato Chissà che fine faccio Alla mia esperienza Personale Di sacerdote E pastore Non sembra Che le cose Stiano così Vorrei tanto E ne sarei felicissimo A essere smentito Da altre testimonianze E da altri fatti Insomma Non ne sarei Felicissimo Ora Gesù Attenzione Qui prosegue Andiamo nella parte finale Perché vorrei Starci un pochino Che è bellissima Dopo aver detto che Solo che la creatura Metterà come sgabbello La sua volontà La nostra Noi gli apriremo le porte Subito subito La faremo entrare Perché la volontà Perché fu la volontà Umana Che chiuse la porta La nostra E si aprì Le porte Alle miserie Alle debolezze Alle passioni Dice Gesù Non sono state La memoria L'intelligenza A chiudersi Anche se Hanno concorso Perché chiaramente L'intelligenza Ha pensato Quello che doveva fare Che poi la volontà Ha messo in atto No? È stata la volontà Che ha spezzato Tutti i vincoli E attenzione Che dalla nostra volontà Dipende tutto Perché nella nostra volontà Che sta racchiuso Il principio Di tutto il possibile bene O tutto il possibile male Se la volontà Di Gesù fallisce nel bene È la fine È la fine E in che senso È la fine Considerazione di Gesù Conclusive Tenendo presente Che il contesto È La visione Che lui sa Di lui che fa silenzio Che resta afflitto Tutto afflitto Per il male Grande Che ha prodotto La volontà umana Nelle creature E parla Sospirando E dice La volontà umana Paralizza La vita dell'anima Quindi rileggiamo In questa prospettiva Per esempio L'episodio evangelico E la guarigione Del paralitico Cos'è la paralisi La paralisi È La vita Della volontà umana Che rende L'anima paralitica Attenzione Gesù diceva Anche un'altra cosa Se non c'è la mia volontà Che circola Non è garantito L'uso perfetto Di tutte le facoltà Mentali Attenzione Qui Andiamo in alta Psichiatria E psicologia Io non ho mai avuto Dubbi su questo Anche se Poi Dimostrarlo È impossibile No E quindi Poi ci sono Psichiatri Psicologi Per carità Anche qui Loro hanno Un ambito Proprio di competenza In alcuni casi Non si può intervenire Su questo Siamo d'accordo Però Gesù qui Sta andando Al fondo Nel profondo L'origine Di tutte quante Le alterazioni Mentali Cose brutte Insomma Anche Forme cliniche Le ossessioni Le paranoie Queste sono le più gravi Ma anche quelle più piccole Gli scrupoli Tutte cose qui Derivano Dalla Vita Della volontà umana Che continua a fare Tutto quello che vuole Dall'assenza Della presenza Della volontà divina Nell'anima Quante anime Paralizzate Senza la mia volontà Sparalizzate Quando uno è paralizzato Non può fare niente Dobbiamo fissarla Questa Questa immagine La guarigione Del paralitico Allora E Gesù dice Ma che spettacolo Compassionevole Cioè che fa compassione Vedere le umane generazioni Quasi tutte Paralizzate Nell'anima E quindi Sragionevoli Sragionevoli Sia in maniera clinica Quando c'è qualche rotella Che non funziona Come diciamo noi Sia anche in maniera ordinaria Tutti gli sragionamenti Tutti i discorsi A vambera Che in continuazione Si sentono anche Dove non si dovrebbero sentire Sragionano in questo modo Sia anche un'espressione Che si usa Nei libri sapienziali Sragionare Proprio di una ragione Paralizzata Per assenza Della divina volontà C'è che per vedere Il bene Allora Quante anime Vedere il bene È un segno Soprannaturale Grande Vedere il bene Vuol dire Vedere innanzitutto Il bene che Dio è Che Dio fa E che Dio ci fa In continuazione Tutti i giorni Vedere il bene Che il prossimo ci fa Non vedere soltanto I difetti Saperlo riconoscere Saperlo riconoscere E apprezzarlo Ma vedere anche Quel poco di bene Senza superbia E senza Evidentemente Vanagloria Amor proprio Millanteria Vanteria Eccetera Eccetera Che noi siamo Prima che facciamo Perché noi In quanto creati Siamo Una cosa buona E forse Con l'aiuto del Signore Tra tante miserie E imperfezioni Qualche cosa di buono Grazie a Lui Uscirà pure da noi Vedere il bene Poi Questa è un'incapacità Che hanno le anime Privedere di una volontà Sono anche Un'altra cosa Sono non solo cieche Per vedere il bene Ma sono sorde Per ascoltare la verità Non gli interessa Ascoltare la verità Con la V maiuscola Non l'ascoltano Non gli obbediscono E conseguentemente Sono mute Per insegnarla Quando noi vediamo Qualcuno Che dovrebbe insegnare La verità E che Ragionando Insegna altro Dobbiamo pensare Che quello Prima che è muto È sordo Perché non può insegnare Quello che non ha imparato E quello che non ha appreso Se non ascolti Dio Non dirai le parole di Dio Direi altre parole Parole del mondo Parole tue Parole dei telegiornali Parole dell'opinione pubblica Dei media Dei social Ma non dirai le parole di Dio Ancora Inerti per le opere sante Oziosi Inerti Accidiosi Quindi Niente opere sante Gli innumerevoli peccati Di omissione Ancora immobili Nel camminare Per la via del cielo Tutti siamo in cammino Ma chi è che cammina Passo dopo passo Costanza Continua Per crescere sempre Un po' più Giorno dopo giorno Nella santità Tutto questo È la paralisi generale Dell'anima Dipendente Qui è la bellissima immagine Che fa Gesù Dall'assenza Di circolazione Nell'anima Del sangue divino Che è la divina volontà Lui spiega In un linguaggio semplice Che molte malattie umane Dipendono da difetti E problemi Della circolazione Del sangue Io adesso non sono Né un medico Né un anatomopatologo Quindi non mi avventuro Insomma Nell'approfondire Però dice La stessa cosa Capita nell'anima Se non circola La mia volontà È la fine Perché Solo la mia volontà Attenzione Evita Qualunque male Dell'anima Qualunque Per non restare paralizzata Nel bene Per crescere forte E robusta Nella santità Qualunque Cioè I termini di Gesù Sono fortici Non è che ti risolve Qualche problema No no Qualunque male Dell'anima Cessa di essere Se la nostra vita Diviene una vita Pienamente vissuta Nella divina volontà Ancora Questo rimedio Non costa niente Se tu vai Dallo psichiatra Ti costano patrimonio O dallo psicologo Questo non costa niente Non bisogna girare Il mondo Per averlo Non devi andare A trovare Chissà quale Grande specialista Di nulla Ce l'hai gratis A disposizione Perché La divina volontà Di Gesù È sempre pronta A darsi E a costituirsi Vita regolare Della creatura Ma Chi lo prende Questo bene Se una persona Che fosse paralitica O malata Per la circolazione Del sangue Sapesse che c'è Un rimedio E magari Andrebbe chissà dove Per averlo Ma ti pare Che non lo andrebbe A prendere Ma dovesse pure Varcare il mondo Dovesse pure Indebitarsi Fino al collo Per andarlo A trovare Questo è gratis Non si deve andare Da nessuna parte Perché Ti arriva comodamente A casa tua Come dicono oggi Gli spot commerciali D'accordo È sempre pronta Basta che tu ti decidi E chi la prende Purtroppo Quasi Nessuno E quindi Continuiamo a rimanere Paralizzati Sragionevoli Ciechi Sordi Muti Inerti Per le opere sante Guardiamo Di loro questa espressione Tutti quanti Miracoli evangelici Quindi La guarigione Del cieco La guarigione Del sordo Sentiamo come dice Gesù Ciechi in che senso Ciechi per vedere il bene Sordi in che senso Sordi per ascoltare la verità Il muto Il sordo muto Mute per insegnarla Inerti per le opere sante L'uomo dalla mano Inaridita Tutti quanti i brani evangelici Stanno qui sotto Immobili Nel camminare Per la vita del cielo Il paralitico Vediamo anche sotto Un altro punto di vista Tutti quanti i miracoli evangelici Che certamente Nessuno nega Che si siano compiuti Nella loro materialità Cioè C'era veramente un cieco Che è stato Guarito da Gesù Ma perché sono stati Riportati nel Vangelo Cioè Che ci importa a noi Cioè va bene Oltre al fatto che Questo è un miracolo Che attesta la natura divina Di Gesù Va bene Ma oltre a questo Bastava Bastava uno No Cioè se ne fa uno o due Ma ce ne stanno tantissimi Descrizioni di queste Nei Vangeli E variegate C'è il sordo Il cieco Il mutuo Lo zoppo Il paralitico Eccetera No perché tutti questi Perché Gesù Vuole farci capire Sta attento Non ti fissare Sulla malattia del corpo Guarda il corrispondente Il corrispettivo Della tua anima Della tua volontà Perché è quello Che io ti voglio guarire Perché è quella La causa di tutti quanti I tuoi problemi È a quello Che io voglio arrivare Fatti Guarire Da me Grazie Grazie Anche oggi Il nostro e tuo Signore Gesù Santa Vergine Maria Ci ha portato A profondamente Riflettere A scuoterci un po' Ecco Dal nostro torpore E rivelandoci Delle cose grosse Tutti quanti I malfunzionamenti Interiori Comprese Le cose serie Che attanagliano La psiche Hanno come radice Ultima La vita Della volontà Umana Che provoca Effetto paralizzante E l'assenza Della vita divina Posseduta appunto In pienezza Dalla divina volontà Questo chiaramente Come sempre Ci provoca E ci invita A vivere Di conseguenza A prendere Tutto molto Sul serio A rinnovare A rinnovare la nostra Ferma volontà Di vivere Nella divina E a continuare E a continuare il nostro cammino Per fare il possibile Perché sempre più E sempre meglio Come diciamo All'inizio della meditazione Possiamo non soltanto Conoscere e amare La divina volontà Ma anche Sempre più Vivere in essa Nella divina volontà Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Ti benedico per aiutarti Ti benedico per difenderti Ti benedico per perdonarti Ti benedico per liberarti Da ogni male Ti benedico per consolarti Ti benedico per farti santo Ti benedico dunque Nella divina volontà Nel nome del Padre E del Figlio E dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria